Qualche settimana fa in RTV abbiamo ospitato Luca Mazzucchelli. Chi è Luca Mazzucchelli? È uno psicologo di 37 anni, vicepresidente dell'Ordine degli Psicologi della Lombardia, ma soprattutto è un autore, un videodivulgatore, ovvero colui che attraverso l'utilizzo programmato, seriale massivo dei video ha saputo costruire interesse e attenzione intorno a una tematica complessa come quella della psicologia. Durante la trasmissione Luca ha presentato il suo ultimo libro, video marketing, ovvero come aumentare popolarità ai clienti grazie all'utilizzo del video. È un libro che ho letto in un paio di giorni e che mi ha colpito essenzialmente per tre aspetti. Il primo aspetto riguarda l'esperienza narrativa. Qui Luca ci racconta come attraverso i video è andato controcorrente rispetto a un percorso professionale e personale già segnato. Il secondo aspetto riguarda la semplicità di linguaggio. Qui Luca non si infila in un ginepraio di tecnicismi, dà qualche consiglio tecnico ma soprattutto parla alle persone con un linguaggio scorrevole e di grande comprensione. Il terzo aspetto, forse quello più rilevante, riguarda la motivazione. Il perché un consulente, un imprenditore, un professionista dovrebbe avvicinarsi al mondo dei video per aumentare la popolarità e avere ricadute benefiche sul proprio business. È un libro quindi che esposa perfettamente le esigenze dell'agente immobiliare che desidera affiancare alla propria strategia di comunicazione anche lo strumento video. Vi invito quindi ad annoverare anche questo libro tra le letture estive già programmate e magari da farsi sotto l'ombrellone. Alla prossima!